Deve rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio un 24enne gambiano fermato da una volante della polizia durante un controllo in zona Livelloni, in strada Poleggia, in città. L'uomo era in auto con un congolese, risultato è strano ai fatti che gli ha fatto l'autista ed è subito parso molto nervoso. Scattate le perquisizioni personali e del mezzo, addosso aveva solo pochi grammi di hashish, ma sotto un sedile sono spuntati un ettor di marijuana e 335 euro. Tra controlli è emerso che il gambiano era arrivato in Italia come richiedente asilo, status che era decaduto nel momento in cui aveva iniziato una storia con una vicentina da cui aveva pure avuto un bambino. Oggi ha patteggiato per lui sei mesi di reclusione, multa di 1000 euro, pena sospesa. Schio. Il soccorso alpino è stato chiamato dal SUEM di Vicenza per un escursionista scivolato sull'anello storico delle postazioni di guerra di Vaccaresse sul Monte Novegno. Si tratta di un trentenne di valli del Pasubio che è caduto per una ventina di metri, riportando un probabile trauma cranico, oltre a contusioni e tagli. Sul posto si è portato l'elicottero che ha sbarcato l'equipe medica e il tecnico di elissoccorso con un vericello. Prestate le prime cure, l'infortunato è stato imbarrellato e recuperato per essere trasportato all'ospedale di Vicenza. Scoppia la lite tra due persone, spunta un bastone, uno dei due lo scaraventa contro l'altro, ferendolo alla testa e scappa in bici, lasciandolo privo di sensi a terra. La scena è notata da una passante che allerta il 113, siamo in Viale San Lazzaro a Vicenza. Sul posto anche l'ambulanza del SUEM 118 che presta i primi soccorsi al ferito, un nigeriano di 31 anni, regolare in Italia, e lo conduce al San Bortolo, da dove in breve farà perdere le proprie tracce e si cerca l'aggressore. Reco Aro Terme, un padovano di 62 anni, è rimasto ferito mentre scendeva da Passoristere a causa di una brutta caduta che gli ha procurato una frattura a una caviglia. L'incidente è avvenuto alla quota di 1600 metri, l'escursionista, che si trovava con un amico, non era più in grado di proseguire, quindi è stato chiamato il soccorso alpino di Reco Aro Valdagno. Otto soccorritori hanno raggiunto l'infortunato, portandolo a piedi con una barella fino al fuoristrada, e quindi alla strada dove è stato preso in carico da un'ambulanza, che l'ha portato all'ospedale di Valdagno. Grazie. Grazie. Grazie.